Io faccio tanto sport e ad agosto mi resi conto che il piede destro, ogni volta che toglievo la calza, sembrava un pelino gonfio, insomma. Mi sento, vabbè, sarà un problema con le calze o col tipo di esercizio che ho fatto quel giorno lì. Qualche giorno dopo ero pronta nuova per fare sport e il piede sembrava una palla di football americano. Chiesi a mia cugina cosa devo fare, devo farle dare a una dottoressa, non so. Chiamai la mia dottoressa e mi dicevi, sì, sì, vieni a farti vedere. Andai dalla dottoressa per vedere che non fosse un coagulo di sangue, questo era settembre. Poi ho fatto degli analisi del sangue, ho fatto vedere a un cardiologo, a un esperto vascolare e ho reflusso venale. Quindi il sangue va giù ma non è capace di tornare su e non c'è niente da fare apparentemente. Devo convivere con questa situazione, ce l'hanno tante persone, eccetera. Il piede, mamma mia, però ogni volta che vedevo sto piede mi spaventava. Vedrete poi le foto. Quindi andai a cena con la mia amica Marcy una sera e mi dette questi cerotti. Vabbè, io sono una di quelle amiche che se mi offri qualcosa, mi porti da qualche parte, io vengo, io faccio, io non faccio tante domande, perché questa è l'amicizia secondo me. Iniziai con questi cerotti, ero abbastanza scettica, avevo anche dolore alla parte lombare della schiena. Ogni volta che portavo in giro il cane avevo un dolore pazzesco. Quindi provai anche i cerotti sul piede e sulla schiena. Il piede era sempre gonfio e la mia amica Marcy venne là dove mi faccio fare i massaggi e mi disse qualcosa, non mi ricordo, e fui così frustrata e lanciai il piede sul banco e dissi se quel cavolo di cerotto riesce a sgonfiare il mio piede, io ci sto. E continuai quindi con la caviglia e la parte bassa della schiena. Sai che ogni tanto senti che qualcosa non va bene, magari ha un mal di testa, avverti qualcos'altro. Però quando smette, magari non ti accorgi neanche che ha smesso questa condizione. Ah, sai, magari la testa non mi fa più male, perché era talmente graduale. Col mio piede successe così. Un giorno guardai il mio piede e mi dissi, wow, ma tutto sgonfio. Adesso sono, boh, da gennaio, da gennaio che il piede non si gonfia. Quindi quasi due mesi che metti i cerotti e il gonfiore è completamente, 100% sparito. Incredibile. Volete vedere, ragazzi, le foto di quel piede? Sì, sì, dai, faccele vedere. Allora, siete pronti? Ecco i piedi. Vedete i piedi? Ecco il piede destro. Guardate sto piede. Mamma mia che piede. Aiuto. Santa pace. Avete visto? Riuscite a vedere il mio schermo? Guardate adesso il piede, com'è bello. Wow, 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 wow. Ciao.